Per il suo mettere sempre in avanti a sé la tua parola e la sua capacità di spezzarla sapientemente, rendendola accessibile a tutti, incoraggiando, confortando, espirando marcia e statunità. Grazie Signore per la sua natura vera e soggibile, per la sua semplicità, per il suo sorriso accogliente e abbattuta sempre pronta, la sua disponibilità e la capacità di assoluto. Però figliare, Signore, donagli ogni giorno l'energia, il coraggio e la salute, necessarie a rimanere al posto che va sempre realizzato da lui, con il benessere di casa e lo stesso parisma, perché siamo stati strumenti di salvezza e il punto di riferimento della comunità. Oggi si ricorda San Pietro d'Alcana, presentano da l'energia del mondo. Per questo ti preghiamo. Astorno. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.